Come hanno fatto poi a darti l'occolo? Ha parlato un po' poi ha detto era la sera dell'8 di marzo e quindi faceva freddo alla notte anzi tutto dalla parte che il sole non batteva c'era ancora tanto così di neve per terra e lui ha detto sento freddo lì nell'autoblindo c'è il giubbotto di pelle se non vi interessa voi altri e lui cerca a fare i segnali e dice va l'autoblindo e c'è un giubbotto e c'è un giubbotto che ha detto questo qua me lo regalo è una cieca di glielo di a questo ragazzo qua fra 50 anni passerà di qua lo troverà ancora come gliel'ha dato lui ed infatti niente l'unica cosa è una 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 spalletta che si è che si è questa qua che era qua si è rotta però è ancora se vengono gli eredi a reclamarlo